Ciao a tutti, io sono Graziano In questo canale, il mio canale, porterò videogiochi Questa è la prima volta che faccio video Infatti per Youtube sarà un canale nuovo quello che uscirà Se vi va ad iscrivervi, iscrivetevi Se vi va ad lasciare il pollicione in su, lasciate il pollicione in su Ci vediamo al prossimo video che farò Ciao a tutti, grazie